pronto casa montezemolo pinuccio sono è il lux e tu e non piange stai su stai su tal caccia lo so pur la macchina ti hanno tolto vabbè se vuoi ti posso prestare la mia la ritmo in città è buono fuori non puoi andare che sta un po scassata e poi arrangi un poco stai su non ti preoccupare anche perché ti hanno dato 300 milioni di liquidazione in vent'anni no ti devono dare e tip turista per caso che cazzo vuoi ridi di dai ti ricorderemo sempre sei stato un grande presidente la cosa più bella che hai fatto quando sei messo due cfene guardi e sabino lì ha raggiunto il top sì le vittorie ho capito tutto quello che vuoi ma quella cosa qualche sabino da giovani quando guardava male in televisione guarda quel cornutico che si è andata a fidanzare è quella è stata la cosa più bella rimarrai nella storia proprio va bene sei un grande mo ti manda dall'italia non ti preoccupare così fai le corse la ti vieta giocare vabbè portati qualche femmine dei gran premi la così cambiamo pure un poco le perso il personale all'italia ma dai raggiungimi qua che sto a yeso la miss italia ti ripresenta un po di ragazze che qua non si capisce niente sabino sta impazzendo sabino vuoi dire qualcosa comprati il molise e ti stima ma ciao bello ciao